ah chef ma che sta a fa? eh gli ultimi quattro primi, ci sappiamo, la tagliatella ai punti un tonnero allo scoglio, una chitarina benamana e una gnocchetta allo scoglio, eccoli qua, finiamo, vedi quando devi abbassare la fiamma, la fiamma, la fiamma, la fiamma vedi, questa la abbassi, l'alzi, la temperatura, vedi, questa la mette, questa la dobbiamo alciare, questa abbassare, poi acqua, 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 ok, questa la delamana quasi pronta. poi ci mettiamo un po' di pecorino ragazzi questo era un video per farvi vedere noi facciamo tutto da vivo ora ci sono pezzoni un abbracione ciao